Il Sestante è uno strumento che ti consente, spesso per chi naviga ma non solo, di avere da un punto fermo l'obiettivo dei corpi celesti. Il Sestante ci aiuta a trovare una rotta, il Sestante ci aiuta a mettere in contatto due situazioni diverse, che è quello che vogliamo fare. Si chiama Sestante ed è la nuova associazione Aretina che si è presentata questa mattina in piazza Anromeda, nata con l'obiettivo di dar voce a chi oggi vive situazioni complesse e difficili. Noi siamo un gruppo di cittadini, un gruppo di persone con tante esperienze diverse, veniamo da esperienze lavorative, insomma siamo un gruppo eterogeneo, che però aveva una volontà comune, quello di parlare di questa città in maniera diversa, non nel modo tradizionale. Noi con questa associazione non vogliamo assolutamente sostituirci a partiti o alle istituzioni, ma vogliamo creare una narrazione di questa città, ascoltando i vari operatori, i vari attori di questa città e creando poi una narrazione che ci consegnerà un quadro esatto di quello che viviamo in questo territorio. Sestante sta incontrando gruppi di persone i cui racconti sono sintetizzati e verranno presentati entro la prossima primavera, nel corso di un'iniziativa pubblica finalizzata a mettere a disposizione della città questa nuova narrazione di Arezzo. Abbiamo organizzato già un calendario di un'oltre una decina di incontri su vari temi, che affrontano sia i disagi della cittadinanza, ma anche le situazioni positive e l'intenzione è quella di far parlare coloro che non parlano mai. C'è tanta gente che fa molto ma non viene mai ascoltata, c'è tanta gente che può raccontare esperienze ma non ha la possibilità di dirle in modo reale e alla fine creare una sintesi di questa situazione per avere uno spaccato vero, vicino alla realtà della nostra città. Poi chi lo vorrà utilizzare, chi vorrà avere la curiosità o la voglia di partecipare e di leggere, di conoscere cosa Arezzo è, lo potrà fare.